droga a fiumi da lucca all'elba smantellata la banda a capo della gang un cittadino residente in provincia di lucca che da piombino faceva arrivare la cocaina in tutto il territorio 19 indagati e 4 arresti nella maxi operazione dei carabinieri scritte novax su auto e muri blitz notturno al centro sanitario di capannori le scritte citano il nazismo ed equiparano il vaccino alla morte ferma condanna dalla direttrice dell'asle letizia casani notte bianca festa fino alle 2 scattano i divieti sulle bevande a palazzo sani la presentazione delle misure di sicurezza e logistiche legate al grande evento in programma in città il 31 agosto calcio ruggito di pantera ma attenti al lupo venerdì sera ore 20 e 45 vernissage stagionale al porta elisa contro il temibile gubbio di mister taurino gorgone aspetta altri rinforzi dal mercato dopo gli arrivi di dum bravanu e selvini motori remontata d'argento nelle ardenne secondo posto alla quattro ore di spa per il team golf racing con straordinaria rimonta del pilota lucchese riccardo pera e adesso il campionato europeo endurance non è più un sogno bene ritrovati in questa nuova edizione del nostro tg noi cominciamo subito dalla cronaca parlando della maxi operazione tra lucchesia e isola delba dei carabinieri quattro arresti 19 indagati e un giro di spaccio di cocaina da milioni di euro stroncato dai carabinieri all'isola delba capo della banda un cittadino residente in provincia di lucca che da piombino faceva arrivare la droga in tutto il territorio un trentottenne albanese al cui arresto hanno collaborato i carabinieri di lucca e alto pascio per incastrare la banda i militari hanno simulato l'abbattimento di un cinghiale con tanto di spargimento di colorante rosso e di alcune cartucce da caccia l'inchiesta condotta dai carabinieri di porto ferraio e dal nucleo investigativo di livorno è nata dopo che a fine 2020 un detenuto di porto azzurro rientrato da un permesso premio s'era sentito male dagli accertamenti emersi che aveva ingerito un ovulo di cocaina acquistata sull'isola le indagini hanno permesso di accertare i vari passaggi dello stupefacente che veniva consegnato a un altro albanese residente all'elba che a sua volta avrebbe gestito pusher nei vari comuni isolani gli inquirenti hanno stimato un giro di affari settimanale di circa 8 mila euro per un etto di cocaina smerciata e oltre 50 assuntori ma scopriamo di più da di questa operazione con questa intervista a rocco taurasi comandante del reparto operativo dei carabinieri di livorno i carabinieri della compagnia di porto ferraio hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia catalana in carcere a carico di quattro soggetti due italiani e due di origine albanese gravamente inviziati a vario titolo di spazio di sostanzi stupefacenti in concorso secondo la ricostruzione investigativa dei carabinieri il traffico comportava lo smercio di circa un etto di cocaina a settimana corrispondente a circa 8 mila euro traffico che si è protratto per diversi mesi la droga proveniva principalmente dall'orquesia le indagini di ampio spettro hanno riguardato 19 indagati individuando però un cittadino albanese di 39 anni quale capobanda che si riforniva di cocaina nella lucchesia per poi trasportarla verso porto ferraio oltre agli odierni destinatari dell'ordinanza cautelare del tribunale di Livorno ci sono stati altri indagati che supportavano in maniera fattiva l'attività di spaccio attraverso il prestito delle vetture, l'intestazione di spizia di sim o anche prestandosi a mantenere in deposito la sostanza sottocacente in attesa di spaccio. Adesso passiamo a Capannoli dove la scorsa notte c'è stato un vero e proprio blizza al centro sanitario. Scritte Novax al centro sanitario di Capannoli in piazza Aldomoro sono state apposte nella notte sui muri sulle porte del distretto e sulle auto di servizio. Frasi offensive e intimidatorie con cui si cita il nazismo e si equipara il vaccino alla morte. L'ASL ha denunciato quanto accaduto alle forze dell'ordine con l'auspicio che si possa arrivare quanto prima ad individuare e punire i responsabili di questo inqualificabile atto. È un episodio molto grave, ha commentato la direttrice generale dell'azienda USD Toscana Nord-Ovest Maria Letizia Casani, che condanniamo fermamente e che offende il personale sanitario che ogni giorno si impegna con costanza e con grande sforzo. Ai nostri operatori, che sono giustamente amareggiati e arrabbiati, esprimo dunque la vicinanza mia e dei colleghi della direzione aziendale. Questo atto vandalico, dichiara ancora la Casani, denota disprezzo per l'intera comunità. Oltre ad arrecare danni materiali, offende proprio chi si impegna al servizio della cittadinanza. La Regione Toscana ha prorogato fino al 15 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali in tutta la Toscana. La Toscana, considerato il perdurare delle alte temperature e dell'estate siccitosa, slitta dunque di 15 giorni il termine che originariamente era previsto per il 31 di agosto. Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali, nel periodo a rischio il regolamento forestale della Toscana vieta qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in braceri e barbecue situati in abitazione o pertinenza, o all'interno delle aree attrezzate. Adesso passiamo invece a uno degli appuntamenti più attesi dell'estate lucchese, ovvero la Notte Bianca. Non oltre le due di notte per la musica, stoppa la vendita di alcolici tra le due e le sei. Sono le principali misure messe in campo in vista della Notte Bianca nel centro storico di Lucca, che si svolgerà tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, e che sono state presentate a Palazzo Sani, alla presenza dell'assessore Fabio Barzanti e dei vicepresidenti di Confcommercio Lucca Massacarrara, Samuele Cosentino e Samantha Cecchi. Siamo all'undicesima edizione di questo fantastico evento, che per presenze rispettivamente alla durata dell'evento è, credo, il secondo evento più importante della città, questo è importante ricordarlo. Quest'anno, devo dire, sono molto felice, perché dai nostri uffici è nata l'idea e l'impegno di portare avanti un aspetto inclusivo di questa manifestazione con due eventi. L'amministrazione comunale ha così raccolto le richieste pervenute dalla Questura di Lucca. Sarà fatto di vieto di vendere alimenti e bevande in contenitori rigidi, metallo o vetro, mentre sarà consentita la somministrazione al tavolo, per tutti gli esercizi che si trovino nel centro storico dalle 18 di sabato fino alle 6 di domenica. Tra le misure più importanti, non sarà nemmeno possibile introdurre cibi o bevande in contenitori di vetro o metallo dalle 20 del sabato fino alle 6 della domenica. La fine dell'estate è un punto di riferimento dell'anno dove cominciano a tirarsi le prime somme su alcuni dati. In questo caso si parla di dati del turismo nel centro storico di Lucca, che sono stati diramati dal comune di Lucca in una conferenza stampa organizzata sotto la Torre Guinigi. Un incremento dell'8% per quanto riguarda gli arrivi e del 7% per le presenze. Sono i dati del primo semestre 2024 diffusi dall'ufficio turismo del comune di Lucca, messi a confronto con quelli del 2023. Numeri che evidenziano e confermano i trend che posizionano Lucca tra le più affermate mete turistiche italiane a livello internazionale. Siamo molto soddisfatti di questi dati che segnalano un più 7% di presenze e un più 8% di arrivi per quanto riguarda il primo semestre del 2024. Un incremento quindi rispetto al 2023 notevole. Un anno, quello scorso, che già aveva segnato un record. Soddisfatti anche della qualità dei visitatori. Sono molti over 60 e anche molte famiglie con bambini, come si può testimoniare anche da queste immagini ai piedi della Torre Guinigi. Sicuramente miglioreremo prossimamente per quanto riguarda i servizi. Servono più bagni pubblici, servono più taxi, servono magari anche delle card, una Lucca card che riesca in qualche modo a mettere in rete i biglietti dei musei con degli sconti. Adesso l'amministrazione comunale è già proiettata al secondo semestre 2024. Sì, noi puntiamo comunque ad avere flussi anche nella bassa stagione. Quest'anno per la terza volta faremo un Lucca Magico Natale ancora più ricco con delle importanti novità che cercheranno di attirare sul Lucca i turisti italiani. Perché in questo momento la maggior parte dei flussi arriva da tutta Europa e dall'America e noi vogliamo in qualche modo anche sollecitare gli italiani a venire a scoprire questo gioiello. A proposito di turismo, è attivo il bando di sostegno alle imprese turistiche delle aree rurali e montane del GAL Montagna Appennino che prevede contributi fino a 15.000 euro. Sentiamo. Il GAL e la società Montagna Appennino ha posto particolare attenzione al settore turistico per utilizzare questi residui di fine programmazione. È un bando senza grosse pretesi, non per grossi interventi strutturali o ampliamenti. È un bando che si rivolge a investimenti sulle attrezzature. A fine stagione probabilmente tutte le attività turistiche hanno bisogno di interventi sulle attrezzature anche per il nuovo della nuova stagione. Diamo contributi minimi, contributo richiedibile 3.000 euro, un massimo di 15.000 euro per cui possiamo sostenere investimenti in attrezzature fino a 30.000 euro, 33.000 euro. Il bando resterà aperto fino al 30 di ottobre. Metteremo sul sito il momento da cui sarà possibile caricare su Artè la domanda per la presentazione degli aiuti. È una domanda molto semplice. Basta presentare tre preventivi, una piccola relazione che spieghi e soddisfi un po' i requisiti del bando. È rivolta a tutte le attività turistiche e ricettive previste dal testo unico del turismo della regione toscana. Tra una settimana in Valle del Cerchio partirà incontri musicali, i luoghi del bello e della cultura. È stato presentato il programma. È stato presentato a Borgamozzano il programma della rassegna incontri musicali, i luoghi del bello e della cultura, giunta quest'anno alla 14esima edizione e organizzata dalla locale Scuola Civica di Musica Salotti con il patrocino dei comuni di Borgamozzano e Banni di Lucca e con il sostegno anche della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il programma prevede sei concerti in sei luoghi differenti dove si potrà apprezzare musicisti di alto livello con repertori di musica cameristica differenti. Inoltre, luogo che vai, comunità che trovi. Infatti i concerti saranno sempre realizzati in collaborazione con le comunità locali. Sei appuntamenti musicali dedicati ai recital solistici e alla musica da camera. Ci saranno anche musicisti di livello internazionale come il chitarrista Roberto Tascini e il duo Maclet. E poi il 20 ottobre faremo una serata molto particolare in cui valorizzeremo la statua della Santa Maria Maddalena di Andrea Della Robbi. In occasione del complano di Andrea Della Robbi eseguiremo con un duo chitarristico alcune musiche dei compositori a lui contemporanei del Rinascimento. Tra una settimana il primo appuntamento che vede impegnato proprio il direttore Giacomo Brunini con la sua chitarra in un luogo molto suggestivo. La quattordicesima edizione che ancora una volta va a toccare le bellezze culturali e storiche di Borgamozzano inizia sabato 7 settembre all'osservatorio di Montagliale sopra Cune e per volontà poi del direttore anche Giacomo Brunini che ha voluto unire la musica alle stelle. Quindi seguirà la visita guidata e l'osservazione delle stelle a cura di Sauro Donati che è presidente dell'osservatorio di Montagliale. Qualche giorno fa vi avevamo annunciato la volontà della raccolta firme al campo di Marte da parte dei Comitati Sanità Lucca. Ecco questa petizione ha raggiunto adesso le mille firme in una settimana in pieno agosto. Risultato assolutamente straordinario. Ricordiamo che la petizione è contro la vendita di alcuni padiglioni da parte dell'ex ospedale lucchese. Infatti c'è un commento da parte dei comitati che dicono che c'è un risultato eccezionale che conferma quanto sia sentita dai cittadini la crisi della sanità pubblica nella piana di Lucca. Ora passiamo invece a un'indagine di Coldiretti ed X che dice che gli americani amano il cibo in Toscana. Il 90% dei turisti americani sceglie la Toscana per la cucina, per i prodotti tipici e per i suoi vini. È questa la principale motivazione che spinge i turisti statunitensi a venire nel nostro territorio per trascorrere un periodo di vacanze dedicando una parte importante del loro tempo ai piaceri della tavola e agli itinerari enogastronomici. Una motivazione forte anche per i nostri connazionali che in queste caldissime vacanze estive hanno destinato a pranzi, cene e all'acquisto di prodotti tipici oltre un terzo del budget. A rivelarlo è un'indagine di Coldiretti Toscana e X e secondo cui complessivamente gli italiani hanno speso durante le ferie estive per cibo e souvenir circa 10 miliardi di euro con il 52% che sceglie di mangiare al ristorante inclusi quelli degli alberghi in cui soggiornano mentre il 15% opta per agriturismi o fast food e l'8% preferisce la pizzeria. Ad attirare i turisti verso le campagne e le aree rurali toscane dove sono presenti 5.600 agriturismi 239 in provincia di Lucca e a caratterizzare la proposta ricettiva ed esperienziale è un patrimonio di produzione di eccellenza che pone la nostra regione vertici nazionali e mondiali con 90 prodotti tra DOP e GP, 467 e ben 137 itinerari enogastronomici. Con questa ultima notizia si chiude il nostro telegiornale, io vi lascio alla pagina sportiva con Guido Casotti, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento su Noi TV. Grazie